Salve a tutti ragazzi, SR Cristiano oggi per voi e benvenuti a questo nuovo video. Come avrete potuto dedurre dal titolo, l'argomento di oggi su cui io voglio dare il mio parere è il caso Benatia. Un caso che è continuato, ha cominciato dall'inizio estate e ha continuato per tutto il periodo del calcio mercato estivo. In poche parole, il sunto della faccenda qual è? Benatia ha chiesto un adeguamento del contratto dal milione che percepiva. La Roma gliene ha offerto inizialmente un milione e mezzo più svariati bonus. Benatia ha rifiutato l'adeguamento di questo contratto chiedendo addirittura 4 milioni di euro a stagione. E questo è stato il primo segnale di inclinamento del rapporto tra Benatia e la società. Poi, durante l'estate, ci sono state molte telenovela e ce la voleva il Chelsea, l'Arsenal, il Manchester United, il Manchester City, il Bayern Monaco, il Barcellona. In poche parole, tutti volevano Benatia, ma nessuno pagava i 30 milioni richiesti da Walter Zabatini. Ad oggi siamo arrivati nel momento clou di questa storia perché poc'anzi, un paio di giorni fa, la Roma ha offerto a Benatia un nuovo adeguamento del contratto di 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus legale per stazione. Il giocatore ha rifiutato ancora e ormai sembra praticamente destinato ad approdare al Bayern Monaco che soddisfarebbe da una parte le richieste economiche del giocatore e dall'altra quella della società. Altro segnale che ormai il rapporto è finito è il fatto che non è stato convocato per l'amichevole di stasera ad Atene contro appunto la EK Atene. Bene, ma detto questo, che più o meno era la storia, cosa ne penso io? Beh, arrivati a questo punto io direi è meglio toglierlo dal cazzo perché, putiamo caso, che poi la trattativa con il Bayern Monaco non è ancora ufficiale, diciamo è più ufficiosa, per cui ancora non è tutto definito. Però ormai al 90% benattiaggio che era con la maglia del Bayern Monaco nella prossima stagione. Comunque dicevo, a questo punto, anche se effettivamente il giocatore dovesse restare a Roma, cosa ci ritroveremmo tra le mani? Un giocatore che non è stato accontentato, tra virgolette, perché ci chiedeva troppo e ovviamente non è potuto essere accontentato dalla società. Un giocatore che gioca contro voglia, un giocatore che non ha più gli stimoli giusti, un giocatore, insomma, non dico inutile, ma quasi, perché sicuramente se una società non è in accordo con le tue idee, tu non riesci a dare il 100% in campo, ma è umano, cioè, è logico. Anche è vero dall'altra parte che la società si ritroverebbe tra le mani un giocatore che l'ha da una parte sputtanata in tutto il mondo, l'ha tradita in modo incredibile, perché vorrei ricordare che Benattià è stato lanciato sul grande calcio dalla Roma, perché se adesso vale 30 milioni di euro è solo e unicamente grazie alla Roma che l'ha preso dalle montagne friolane in cui giocava e l'ha portato su una piazza leggermente maggiore, con tutto il rispetto per l'Udinese, ovviamente, però è un dato di fatto. Quindi, la società con un giocatore che non l'ha rispettato, un giocatore che l'ha tradito, un giocatore che non si sa non essere attaccato alla maglia, si potrebbe anche decidere di farlo rimanere in tribuna per la stagione come punizione, come damnazio consentendo il latinismo. E quindi, a questo punto, se davvero la Roma riuscisse a incassare questi 30 milioni di euro, più eventuali bonus legati alle prestazioni del giocatore, la Roma potrebbe anche agire in modo diverso. Innanzitutto, cercare un sostituto, più sostituti, per il ruolo che Benattià ha lasciato scoperto. Si parla di Ciceres, si parla di Bassa, si parla di svariati giocatori, ma ancora niente di ufficiale, però. E poi, potrebbe andare a capire un gap di 25 milioni di euro passivi in questa sessione di mercato, perché vorrei ricordare che la Roma ha acquistato per 30 milioni, giù a mano all'Iturbe, vendendo poco. Quindi, si andrebbe a risanare da una parte il bilancio e comunque potresti fare mercato, perché una differenza è avere un passivo di 25 milioni, un'altra è averne di 10. Ok? E quindi, oppure la Roma potrebbe non considerare il fatto che, comunque, dici, questi soldi, 30 milioni, li vengono e li rinvestono tutti. Cosa improbabile, ma che può succedere. E quindi che succede? Prendi due difensori, un paio di difensori centrali a coprire il buco, e in più hai un altri 10-15 milioni per poter arrivare a una punta centrale che alla Roma serve, poiché, analogamente, si parla di un Mattia destro al Milan per una cifra circa intorno ai 25 milioni, spalmati in due anni, tipico del Milan, e quindi con un carico di monetario così alto, potresti davvero intervenire bene cercando la punta centrale che ti serve. Cioè, avendo circa, diciamo, 30 milioni, faccio un esempio, potresti andare a prenderti Jackson Martinez, uno dei nomi accostati alla Roma, oppure potresti cercare, non so, di arrivare a tanti nomi che girano in circolazione. Quindi, non lo so, se da una parte è un male perché si perde un grande giocatore, da quell'altra parte dobbiamo vedere anche il bene, perché, come ho già detto, un giocatore che non puoi contenere ormai, una stagione che non giocherà al 100% e tanti, tanti soldi che ti arrivano. Vorrei ricordare che è stato pagato 17 milioni in Benattia dopo una stagione, e teneva alle 30, insomma, io accetterei subito, ma è proprio così, calcolando lo stato mentale del giocatore. Questo più o meno era il mio punto di vista su ciò che sta succedendo. Vi invito nei commenti a lasciare un vostro parere sul caso Benattia, ormai è diventato un caso. Detto questo, io, come sempre, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e Abbasso Lazio.